Nella nostra franetica vita quotidiana spesso ci dimentichiamo di staccare la spina di tanto in tanto. Dimentichiamo che quando ci rilassiamo riceviamo qualcosa indietro. Solo facendo una pausa possiamo lasciarci andare davvero. Il nostro cuore ha bisogno di questi momenti per poter tornare a battere con impeto e noi possiamo rilassarci e sentirci al sicuro. Noi di Markilux sappiamo che una tenda da sole è molto più di un riparo dalla luce. Vogliamo permettervi di progettare un piccolo rifugio nella vostra casa proprio come desiderate. Il vostro comfort e la vostra sicurezza sono ciò che ci spinge a evolverci costantemente. Come combinare perfettamente estetica e tecnologie innovative? Come progettare cose nuove, pingerci continuamente oltre i limiti e trovare soluzioni a misura della vostra abitazione? Ci piace lavorare a stretto contatto. Nella nostra sede di Amstetten i rappresentanti commerciali siedono accanto ai colleghi della logistica e produzione. Questa vicinanza ci consente un'estrema flessibilità nella realizzazione delle nostre tende da sole. Processi automatizzati e dipendenti che amano ciò che fanno. Grazie a questa combinazione invincibile riusciamo a lavorare velocemente e realizzare tende da sole che si inseriscono perfettamente nella vostra casa. Ciascun prodotto è un pezzo unico con cui ridefiniamo continuamente il concetto di tenda da sole. Per attuare concretamente questo concetto collaboriamo con partner specializzati sia a livello locale che globale. Puntiamo sulla formazione continua dei nostri partner nei nostri centri di formazione in Germania e in tutta Europa. Ciò garantisce il successo dei nostri partner in ogni ambito lavorativo in tutto il mondo. Solo così possiamo installare in casa vostra una tenda da sole che coniughi perfettamente tecnologie innovative e design d'eccellenza. Che non sia soltanto un riparo ma rappresenti il proseguimento esterno delle mura domestiche. E questa la nostra idea di tenda da sole. Markilux. Sicuro. Eterno. Elegante.